È stato un weekend quello appena trascorso ricco di appuntamenti motoristici e infatti arrivano in tre giorni distinti tre Racing Podcast Ieri abbiamo parlato di Formula 1, oggi parliamo di Superbike e domani invece del Moto Mondiale Superbike che ha corso a Portimao il terzo round della stagione 2020 e ha cambiato ancora una volta tutto per quanto riguarda le posizioni di testa perché è tornato il dominatore del campionato ovvero il cannibale Jonathan Ray che vince tre gare su tre Per quanto riguarda la Superbike si porta in testa al campionato mondiale con solo i quattro punti di distacco su Scott Redding che ha cercato di limitare i danni ma paga purtroppo l'inglese una gara 1 abbastanza deficitaria è una categoria quella della Superbike che comunque sembra più equilibrata rispetto a quello che fu lo scorso anno che ha vissuto su due parti di stagioni distinte, la prima col dominio di Bautista, la seconda con il dominio del cannibale che vinse il quinto titolo del mondo qui invece sembra un campionato più equilibrato perché ci sono tanti contenders per il titolo tranne che su questa pista perché il pilota nordirlandese che vediamo qui inquadrato ha dimostrato ancora una volta di vincere e sapersi adattare benissimo al tracciato portoghese di Portimao con queste vittorie Jonathan Ray vola a 92 vittorie in carriera in Superbike 12 soltanto a Portimao segno che il nordirlandese si trova veramente bene su questa pista una gara che non ha avuto storia sia per quanto riguarda la gara 1 sia per quanto riguarda la Super Bowl Race è stato un pochino diverso per quanto riguarda la gara 2 poi ad un certo punto Ray ha lasciato combattere Redding e Rasgatioglu per il podio insomma ci sono evidentemente i piloti più forti che sono appunto Ray, Rasgatioglu e appunto Redding che possono giocarsi evidentemente qualcosa di più importante che le singole vittorie Jonathan Ray si conferma ancora una volta l'uomo da battere qualche volta può spuntare qualche outsider, vedi per esempio Van Der Mark, vedi per esempio a volte Alex Loos oppure come è capitato in Super Bowl Race anche Loris Batts c'è tanto equilibrio, c'è tanto carne al fuoco in generale tutti contro Jonathan Ray che qui ha fatto quello che sa fare meglio ovvero prendere, salutare la compagnia e vincere andiamo allora sul sito della federazione della Superbike per fare un recappone di quello che sono state le tre gare anche per quanto riguarda le categorie successive gara 1 la vince appunto Jonathan Ray davanti alle due Yamaha ufficiali di Rasgatioglu e Van Der Mark nella gara 1 purtroppo malissimo le Ducati ufficiali in particolar modo Redding che purtroppo finisce soltanto sesto e già lì di fatto perde quello che è il vantaggio accumulato prima di questa gara, vi ricordo che Scott Trending partiva con 24 punti di vantaggio su Jonathan Ray di fatto neanche una vittoria di una gara lunga bene comunque le Yamaha ufficiali che si confermano evidentemente come dicevo in serie di presentazione gli outsider più convincenti dopo Ducati ovviamente nei confronti di Jonathan Ray con il turco Rasgatioglu che si issa con i due podi di queste prime due gare al terzo posto in classifica in realtà il turco avrà da recriminare molto su gara 2 perché avrà una caduta che lo renderà protagonista lasciando spazio di fatto alla lotta tra Van Der Mark e Scott Trending mentre Jonathan Ray faceva veramente quello che voleva e andava a vincere per la 93esima vittoria in carriera in Superbike, in Superpool Race i primi due membri del podio non cambiano, Ray primo, ragazzo con il secondo terzo Loris Buzz che fa una gran gara con il team Tenkate che corre di fatto con Yamaha primo podio per Loris Buzz in Superbike nel 2020 la gara 2 vede appunto lo stesso copione invece delle altre due gare Jonathan Ray fa il cannibale, fa quello che sa fare meglio ovvero prendere e andare via e vincere se la lottano Scott Trending e Van Der Mark in una gara 2 che ha visto tante altre cadute ma alla fine Scott Trending riesce a limitare i danni in qualche modo purtroppo prende solo un podio su tre gare il vantaggio di Redding è andato a farsi benedire e adesso per il prossimo appuntamento che sarà ad Aragon Redding partirà con 4 punti di svantaggio rispetto a Jonathan Ray con queste gare diciamo la Superbike adesso ha questa classifica che vediamo in grafica a sinistra Ray è primo con 136 punti, Redding è secondo a 132, Razza Dioglio è terzo con 103 Alex Loos è quarta 91, quinto Van Der Mark con 82 e sesto Chats Davis con 75 Chats Davis che è stato abbastanza discontinuo perché ha fatto bene in gara 2 malissimo nelle altre competizioni resta comunque il sesto delle prime tre squadre ufficiali che comunque ha avuto anche dei risvegli positivi per quanto riguarda altri team ufficiali in particolare la Honda e meno invece purtroppo la BMW in particolare la Honda perché qui non è ripetuta dalla grafica ma Alvaro Bautista finisce quinto in gara 2 riportando la Honda ufficiale a un risultato importante dopo tanto tanto tempo insomma è un Redding e una Ducati che esce molto ridimensionata da questo mondiale Superbike almeno questo round Portimao era la pista di Ray, Ray era l'uomo da battere e purtroppo nessuno ci è riuscito né la Ducati né il talento purissimo di Topark Razza Dioglio chi sono comunque i rider del giorno anche se ovviamente purtroppo non abbiamo qui la classifica completa ne do tre come lo scorso Racing Podcast sulla Superbike in ordine non necessariamente di prestazione ma proprio di prestazione notevole un rider del giorno è sicuramente lui Alvaro Bautista appunto per il motivo detto prima quinto in gara 2 la gara lunga ovviamente della domenica pomeriggio e riporta la Honda a un quinto posto e mancava veramente da tempo finalmente la Honda sta tornando come team ufficiale manca soltanto la BMW come sesto team ufficiale diciamo a poter rientrare purtroppo la BMW paga il passo gara che è sempre carente infatti Sykes purtroppo è solo decimo in classifica generale altro rider del giorno lo confermo in questo ragazzo Michael Ruben Rinaldi il pilota italiano si conferma ovviamente il migliore della nostra categoria ovviamente di piloti italiani con 53 punti con una Ducati iper mega privata riesce a fare sempre piazzamente in Top 10 grande prova di Michael Rinaldi soprattutto nelle gare lunghe un pochino meno purtroppo nella Sprint Race ma cambia poco è una prestazione sontuosa quella di Rinaldi che può attentare tranquillamente a rimanere nella Top 10 al termine di questo campionato mondiale con una Ducati vi ripeto iper mega privata un altro italiano che è andato a punti è stato Federico Caricasulo importanti prestazioni per il vice campione del mondo della Super Sport dell'anno scorso ma ovviamente un rider del giorno non può che essere Loris Bass perché appunto dopo una vita passata tra MotoGP e Superbike torna sul podio e lo fa nella categoria dove si è trovato meglio ovviamente la Superbike ed è un podio per un team indipendente molto molto importante la Superbike ora tornerà tra due settimane ad Aragon per un doppio appuntamento si correrà il 29 e il 30 agosto e il 5 e il 6 di settembre per il quarto e il quinto round di questo mondiale Superbike che dovrebbe avere sei round si dovrebbe chiudere con il sale d'obbligo a manicure in Francia per quanto riguarda i primi di ottobre dunque vedremo se la mia Ducati riuscirà a vincere un titolo nella Ducati con nella Superbike scusatemi ovviamente con Scott Redding ma c'è da battere ovviamente Jonathan Rey che ha un minimo vantaggio e quando è in vantaggio difficilmente è battibile parentesi su Sandro Cortese che è stato vittima di un incidente prima di passare alla revisione delle altre categorie Cortese è caduto in curva 12 nel circuito di Portimao ha battuto fortissimo la schiena in una caduta orrenda in un contatto con Leandro Mercado Cortese non ha corso le gare sprint E2 della domenica ha riportato una frattura alla vertebra L7 e evidentemente ci sarà un tempo di recupero molto lungo per il pilota tedesco speriamo di rivederlo presto in pista nelle varie competizioni passiamo adesso alle altre categorie velocemente quindi Super Sport e Super Sport 300 se c'è un dominatore in Superbike di Jonathan Rey per il quale oggi ho suonato tre volte Gov Save the Queen per la quinta volta su cinque gare suona Fratelli d'Italia per quest'uomo Andrea Locatelli che si riscopre mattatore di questa Super Sport è l'uomo da battere lo è sempre stato fin dalla prima gara a Philippe Highland corsa a febbraio e non ha mai sbagliato niente non cambia il modo in cui vince può vincere in tutti i modi sia stando un attimo in attesa rispetto agli attraversari sia prendendo e andandosene via comunque Dry Rez e Portimao ha dimostrato ancora una volta di essere lui l'uomo da battere e dunque attenzione perché per la seconda volta consecutiva il campionato rischia di andare ancora una volta nelle mani del team Bardal e Van Bross a sto giro con un nostro portacolori ovvero Andrea Locatelli che appunto domina anche le gare portoghesi si porta a 125 punti in classifica l'antagonista principale è Jules Clusel che ha fatto 4 secondi posti Jules Clusel purtroppo paga una caduta in gara 1 e finisce sesto per questo motivo il podio di gara 1 lo completano e Lucas Maia che è un altro contender importante a questo mondiale o quantomeno lo era prima di Portimao purtroppo con la caduta di gara 2 Maia dovrà rinunciare evidentemente alle speranze mondiali terzo posto per un ottimo Raffaele De Rosa con la MV Agosta in gara 1 e terzo posto per Isa Fignales che è il cugino di Maverick con la Yamaha del team Caglio Racing in Super Sport c'è di fatto un predominio delle Yamaha ogni tanto si inserisce Maia con la Kawasaki ogni tanto si inserisce De Rosa con la MV ma per il resto parliamo di piloti che appunto corrono per la casa dei tre di Appazon andiamo dunque anche qui col doppio appuntamento di Aragon con un Locatelli iperdominante e chissà che non possa continuare la streak del pilota Bergamasco che appunto è sempre più leader di questo mondiale che ripeto rischia di andare giustamente ancora una volta nel team che l'anno scorso vinse il titolo con Randy Krobenhaker e anzi fece doppietta perché Cari Casulo col team Bardalevambross finì secondo parenti sulla Super Sport 300 che invece è un campionato molto molto più equilibrato anche qui due gare che ci sono state corse sul circuito di Portimao Anna Carrasco torna alla vittoria in Super Sport 300 la ragazza che batte tutti i maschietti presenti in pista alla meglio su Jeffrey Buis e Tom Buthamos che era il leader del mondiale prima di questo doppio appuntamento di Portimao è stata una gara strana quella dello Super Sport 300 di solito le competizioni possono essere molto più tirate qui la Carrasco e Buis hanno fatto gara a sé e se la sono giocata Buthamos invece ha avuto la meglio su un pelotone di piloti immenso e ha conquistato il terzo podio consecutivo in tre gare per Anna Carrasco ha suonato la marcia reale l'innozionale spagnolo suona invece Helvi Lelmus l'innozionale olandese per Scott De Roo che vince la seconda gara e si porta in testa al mondiale con 10 punti di matato sul nipote di Kenan Sofoglu secondo posto per Unai Orratre che vince la prima gara di Heretz e terzo Utah Kaia che fu il polman della qualificazione di gara 1 la classifica della 300 è molto equilibrata e qui sarà divertentissimo seguire un campionato che presenta 50 erotti piloti alle qualificazioni ma per regolamento alla gara ne accedono soltanto 36 i migliori 30 si giocano alla qualificazione e poi tutti gli altri fanno una gara di ripescaggio che qualifica soltanto i primi 6 De Roo è primo con 67 punti secondo è Hattin Sofoglu con 57 terzo è Unai Orratre con 55 Anna Carrasco è quarta con 54 e a 52 punti c'è Tom Boothames evidentemente il campione del mondo della Supersport 300 uscirà fuori da questi 5 che sembrano evidentemente i primi contender viste le prestazioni e ovviamente anche le posizioni in classifica parenti sui italiani il migliore in classifica di campionato è quest'uomo Thomas Brianti che con 32 punti è ovviamente il migliore della classifica Thomas Brianti ricordo che è il campione di categoria italiana di Supersport 300 dunque fatemi sapere che cosa ne pensate del campionato mondiale Superbike che ha avuto il round portoghese con il dominio di Jonathan Ray che dunque è andato in testa al campionato nel mondo con 4 punti di vantaggio su Scott Redding il prossimo Racing Podcast sarà verosimilmente domani ore 19 per quanto riguarda il moto mondiale e poi sempre il nuovo video mercoledì parleremo di baseball americano MLB che è arrivata al primo terzo di stagione regolare il saluto da parte di Maggiutorg e ci vediamo presto dunque al prossimo video Grazie a tutti